Ecco le 5 curiosità più interessanti della seconda giornata di Serie A. Gonzalo Higuain ha segnato in ciascuno dei suoi 6 incontri con la Lazio, 11 gol in tutto. Paolo Di Bala non è da meno, a rete in 5 partite su 6 con i bianco celesti. L'ultimo incontro tra Napoli e Milan alla seconda giornata risale alla stagione 62-63. Vittoria esterna del Milan per 5-1. Mauro Icardi è andato a rete tre volte nelle due partite da lui giocate a San Siro sinora contro il Palermo. I giallorossi sono una vittima abituale per Marco Borriello, ora al Cagliari. Ha segnato quattro volte nelle ultime tre partite contro la Roma. Federico Bernardeschi mette a segno il suo primo gol in Serie A contro il Chievo nel maggio 2015. Resta la sua unica rete in casa con i gigliati. Resta la sua unica rete in casa con i gigliati. Resta la sua unica rete in casa con i gigliati. Stagione dei 1